Quando furono vicino ad Emmaus, Gesù fece come se dovesse andare più lontano, ma invece è un'istessa. Resta con noi perché si passera, e il giorno che avorgia il declino, e gli entrò per i valeri con loro. Quando guardavano con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. A loro si apriranno loro gli occhi, e lo riconosceranno, ma loro si sparì, e lo loro vissero. Il Signore Gesù, quello Dio, come il Padre e lo Spirito Santo, all'inizio alla verità di Maria, gli ha fatto un vero uomo come noi, e diventato un uomo perfetto, e nell'ocalexia, e sempre con noi. Il Signore Gesù, questo è il nomee, vi faccio il viaggio aoscere la benedizione, svolgono le meni, si possono avere un'occolazione, buon'occolazione, di un'occolazione, la benedizione, per favore, e l'occolazione, per mangiare, poi, dovevano fare sotto la terra,